Ciao ragazzi, Francesco Lunardini, un ragazzo normale che è arrivato in Serie A. Oggi vi voglio far vedere la finta forbice, che è una finta molto semplice, però se fatta bene e in velocità può dare grandi risultati. Step numero uno, avvolgimento. Devo avvolgere bene la palla e atterrare oltre. Due, la cosa fondamentale è il peso del corpo. Quindi il peso del corpo deve andare totalmente sulla gamba che avvolge il pallone. Quindi questo, boom, e vado col peso del corpo sulla gamba che avvolge la palla. Ultimo step, il tocco di esterno. Quindi avvolgo, peso, spingo, esterno. Ok? In questo modo riesco a completare la finta. Se sei un coach, ti aspetto sul mio canale YouTube per tutta la progressione didattica sulla finta forbice.